Dicemo, pronunziamo, sentenziamo et dichiariamo te, fra Giordano Bruno predetto, essere eretico et dovere essere scacciato, siccome ti scacciamo dalla nostra santa et immaculata chiesa della cui misericordia ti sei reso indigno. Di più condanniamo, riprobamo et proibiamo tutti li tuoi libri et scritti, perché i continenti molte eresie et errori, e poi io riforzano come timore sentenzia a Mimmi Fertis, come eco a Cipia. Scacciamo et rilasciamo et preghiamo in questo, et in ogni altro meglio modo et forma che di ragione potemo et dovemo.